Anche quest'anno l'estate di San Giovanni a Piro all'insegna della cultura, all'insegna delle rassegne, all'insegna degli incontri e dei confronti con la quarta edizione di Storie, Storie in piazza. E ne parliamo con il presidente dell'associazione culturale Oltre Pisacane, Franco Maldonato. Ecco, le novità, le particolarità di questa quarta edizione di Storie in piazza quali sono? Quest'anno non solo libri ma anche conversazioni per valorizzare il termine di incontri e confronti che pure abbiamo voluto mettere come logo della rassegna culturale Storie in piazza. E' proprio un incontro ed una conversazione sarà oggetto del prossimo appuntamento, il terzo, che terremo il 14 di agosto con il professor Massimiliano Bianchi che è un saprese che dirige un importante istituto di neurofarmacologia a Dublino e che è un professore aggregato di scienze neurologiche con il quale ci confronteremo per l'appunto su tristezza, malinconia e depressione, un viaggio tra scienza e poesia per uscire dal buio. Si parlerà anche di arte con la figura del pintor José Ortega che ha vissuto tanti anni della sua vita a Bosco poi ci sarà anche uno dei più grandi poeti viventi, Elio Pecora, che sarà protagonista il 26 agosto. Sì, l'appuntamento con Elio Pecora che è uno dei più grandi poeti italiani viventi è veramente il segno distintivo di questa rassegna che negli anni precorsi aveva un po' privilegiato il romanzo, quest'anno anche con appuntamenti per così dire fuori sacco perché non calendarizzati nella rassegna daremo ampio spazio alla poesia e l'incontro con Elio Pecora che peraltro è originario del Vallo di Diano è un appuntamento molto importante. Così come importante è anche il nuovo incontro con Eva Cantarella, la nota grecista con la quale ci confronteremo sul mito di Orfeo, le lacrime della dolcezza. Per concludere poi, per così dire, con appuntamenti di segno più propriamente politico e politico-economico con il governatore della Toscana, Enrico Rossi e con Romano Prodi che presenterà il suo ultimo libro, Il Piano Inclinato. Naturalmente tutto il territorio comunale di San Giovanni Appiro sarà interessato le piazze più belle tra Scario, San Giovanni Capoluogo e Bosco. Certamente a San Giovanni Appiro Capoluogo insceneremo il dibattito con Maurizio De Giovanni su uno dei suoi ultimi libri, non un giallo, ma i guardiani che è una discesa negli ipogei napoletani e che inaugura un nuovo corso della tematica di De Giovanni. Così come riproporremo a Bosco un libro importante scritto da un nostro conterraneo, Nicola Cobucci, su José García Ortega, che io ho definito quasi un catalogo perché è un libro ponderoso che accanto ai testi molto acuti e puntuali di Nicola Cobucci ospita la più gran parte e sicuramente la produzione artistica più nota del pintor. e sulla base di questo libro ovviamente sarà inevitabile parlare sia della vita sia delle opere nel loro complesso di Ortega, che ovviamente non ci ha lasciato solo incisioni, ma anche oli su tela, ma anche cartapeste, anche modalità del tutto originali di intendere e di praticare l'arte pittorica.